Sono Priscilla Piazza e anch'io faccio parte della redazione di Milano All News. Milano All News è una web tv, esiste ormai da due anni e ogni giorno si impegna a informare i cittadini per tenerli aggiornati di ciò che succede intorno a noi, nella città di Milano e nella città metropolitana, in modo costante. Per far questo però Milano All News, che oggi si sostiene da sola e si autofinanzia, ha bisogno del vostro sostegno, del sostegno dei cittadini che ogni giorno con gradimento seguite le nostre dirette. È per questo che io, come i miei altri colleghi di Milano All News, vi chiediamo gentilmente di poter contribuire con qualche euro, con un'offerta libera e solidale, al sostentamento di questa web tv che ha come scopo quello di tenervi aggiornati sempre perché, come dice il nostro motto, una città più informata e una città più consapevole. Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darci.